In realtà in generale tutto quello che è tentativo di rappresentazione della femminilità in questo mondo, nella nostra società, questo al di là di uno stereotipo cinema. Lo stereotipo cinema arriva perché c'è uno stereotipo, come dire, sociale. E io nel mio piccolo cerco di raccontare un femminile che non è esattamente un femminile predeterminato o determinato da degli uomini, ma è una piccola testimonianza. Penso questo in assoluto, ma dovrebbe valere anche per gli uomini, ma essendo noi in una società in cui le donne appunto in qualche modo sono sempre riferite a un ruolo apposte ad un uomo. Il tentativo di racconto del femminile è un femminile che si dovrebbe autodeterminare. Donne con storie diverse, ma che in qualche modo sono quello che mi piacerebbe anche raccontare a mia figlia, mostrare a mia figlia cosa può essere lei, non riferendosi alla madre, ma quello che il femminile deve essere, assolutamente poi fuori da dei codici, con una grande espressione di sé, di libertà e di personalità.